In Abruzzo i medici sono pochi e tra i meno pagati d'Italia. E' questo l'allarme lanciato da ANA o ASSOMED. Secondo l'associazione di categoria, infatti, nei prossimi sei anni nella nostra regione mancheranno circa 600 medici e con i tagli e i pensionamenti di quota 100 il quadro potrebbe anche peggiorare. L'altro campanello di allarme riguarda la retribuzione, che per i medici resta tra le più basse d'Italia. In 12 anni, infatti, la spesa pro capite per gli specialisti è aumentata solo del 2%. Venerdì 4 ottobre all'Aquila si terrà il convegno su diritti e doveri di un medico. In quell'occasione i rappresentanti di categoria chiederanno alla regione di tornare ad assumere e di puntare sui giovani, offrendo loro una retribuzione dignitosa. Altro punto di assoluta rilevanza è una questione annosa che ci si trascina dietro praticamente da sempre, quella del gender gap. Nella ASL di Teramo, per esempio, le donne rappresentano oltre il 60% del personale, ma ricoprono solamente una posizione di vertice su 5. A seguito delle nuove nomine di primari e capi di partimento, a inizio settembre, su 18 incarichi solamente 3 sono stati assegnati alle donne. In genere, inoltre, a parità di ruolo, la donna guadagna meno dell'uomo. Secondo la NAO, le cause di questa disparità sono rintracciabili principalmente nella poca flessibilità, la maternità è intesa come sconveniente per il datore di lavoro ed è quindi causa di discriminazione. Così spesso le donne hanno bisogno di appoggiarsi alle loro famiglie di origine. In questo settore, come negli altri, il gender gap mette in luce come alle porte del 2020, la parità dei sessi nella nostra società è ancora una lontana utopia.